Sura dodicesima. Alif, Laam, Ra. Questi sono i versetti del libro esplicito. In verità lo abbiamo fatto scendere come Corano arabo, affinché possiate comprendere. Grazie a ciò che ti ispiriamo in questo Corano, noi ti raccontiamo la più bella storia, anche se precedentemente non eri a conoscenza. Quando Giuseppe disse a suo padre, o padre mio, ho visto in sogno undici stelle, il sole e la luna. Li ho visti prosternarsi davanti a me. O figlio mio, non raccontare questo sogno ai tuoi fratelli, che certamente tramerebbero contro di te. In verità Satana è per l'uomo un nemico evidente. Ti sceglierà così il tuo Signore e ti insegnerà l'interpretazione dei sogni, e completerà la sua grazia su di te e sulla famiglia di Giacobbe, come già prima di te la completò sui tuoi due avi, Abramo e Isacco. In verità il tuo Signore è sapiente e saggio. Certamente in Giuseppe e nei suoi fratelli ci sono segni per coloro che interrogano. Quando essi dissero, Giuseppe e suo fratello sono più cari a nostro padre, anche se noi siamo un gruppo capace. In vero, nostro padre è in palese errore. Uccidete Giuseppe, oppure abbandonatelo in qualche landa, sì che il volto di vostro padre non si rivolga ad altri che a voi. Dopodiché sarete ben considerati. Uno di loro prese la parola e disse, non uccidete Giuseppe, se proprio avete deciso, gettatelo piuttosto in fondo alla cisterna, che possa ritrovarlo a qualche carovana. Dissero, oh padre nostro perché non ti fidi di noi a proposito di Giuseppe, eppure siamo sinceri nei suoi confronti. Lascia che venga con noi domani a divertirsi e a giocare, veglieremo su di lui. disse, mi era trista che lo conduciate con voi, temo che il lupo lo divori mentre non badate a lui. Dissero, se lo mangiasse il lupo mentre siamo tanto numerosi, veramente saremmo disgraziati. Quando poi lo ebbero condotto con loro e furono d'accordo nel gettarlo in fondo alla cisterna, noi gli ispirammo, ricorderai loro quello che hanno commesso, quando meno se lo aspetteranno. Quella sera tornarono al padre loro piangendo. Dissero, abbiamo fatto una gara di corsa, abbiamo lasciato Giuseppe a guardia della nostra roba e il lupo lo ha divorato. Tu non ci crederai, eppure siamo veritieri. Li presentarono la sua camicia macchiata di un sangue che non era il suo. Disse Giacobbe, i vostri animi vi hanno suggerito un misfatto. Bella pazienza. Mi rivolgo ad Allah contro quello che raccontate. Giunse una carovana e mandarono uno di loro ad attingere acqua. Questi fece scendere il secchio e poi disse, Buona nuova, c'è un ragazzo. Lo nascosero come fosse merce. Allah era ben a conoscenza di quel che facevano. Lo vendettero a basso prezzo, qualche pezzo d'argento, e furono in ciò deprezzatori. Colui che in Egitto lo acquistò, disse a sua moglie, Trattalo bene, che forse ci sarà utile, o potremo adottarlo come figlio. Stabilimmo così Giuseppe in quella terra, affinché imparasse da noi l'interpretazione dei sogni. Allah ha il predominio nei suoi disegni, ma la maggior parte degli uomini non lo sa. Quando raggiunse la sua età adulta, gli concedemmo saggezza e scienza. Così compensiamo coloro che compiono il bene. Avvenne che colei nella cui casa egli si trovava, si innamorò di lui. Chiuse le porte e disse, Accostati a me. Disse, Che Allah non voglia, il mio padrone mi ha dato buona accoglienza, Gli ingiusti non prospereranno. Certamente ella lo desiderava, Ed egli l'avrebbe respinta con violenza, se non avesse visto un segno del suo Signore. Così allontanammo da lui il male e l'ignominia, Perché era uno dei nostri sinceri servitori. Entrambi corsero verso la porta, Lei gli strappò la camicia da dietro. Alla porta incontrarono il marito di lei. Disse la donna, Cosa merita colui che ha voluto male a tua moglie? Nient'altro che la prigione o un doloroso castigo. Disse Giuseppe, È lei che voleva sedurmi. Un testimone della famiglia di lei intervenne, Se la camicia è strappata davanti, È lei che dice la verità e lui è un mentitore. Se invece la camicia è strappata sul dietro, È la mente ed egli dice la verità. Vista la camicia che era strappata sul dietro, disse, È certamente un'astuzia di femmine. La vostra astuzia, o donne, è davvero grande. Vai pure, Giuseppe, E tu, donna, implora perdono per la tua colpa, Che in verità sei colpevole. Le donne in città malignavano. La moglie del principe ha cercato di sedurre il suo garzone. Egli l'ha resa folle d'amore. Ci sembra che si sia del tutto smarrita. Avendo sentito i loro discorsi, Inviò loro qualcuno e preparò i cuscini. Giunte che furono, diede a ciascuno un coltello, Quindi disse a Giuseppe, Entra al loro cospetto. Quando lo videro, lo trovarono talmente bello Che si tagliuzzarono le mani dicendo Che Allah ci protegga, Questo non è un essere umano, Ma un angelo nobilissimo. Disse, Questi è colui per il quale mi avete biasimato. Ho cercato di sedurlo, Ma lui vuole mantenersi casto. Ebbene, Se rifiuta di fare ciò che gli comando, Sarà gettato in prigione, E sarà tra i miserabili. Disse, O mio Signore, Preferisco la prigione a ciò cui mi invitano. Ma se tu non allontani da me le loro arti, Cederò loro, E sarò uno di quelli che disconoscono la tua legge. Lo esaudì, suo Signore, E allontanò da lui le loro arti. In verità egli è colui che tutto ascolta e conosce. E così, Nonostante avessero avuto le prove, Credettero fosse bene imprigionarlo per un certo periodo. Insieme con lui, Entrarono in prigione due giovani. Uno di loro disse, Mi sono visto in sogno mentre schiacciavo dell'uva. Disse l'altro, Mi sono visto mentre portavo sulla testa del pane, E gli uccelli ne mangiavano. Dacci l'interpretazione di tutto ciò. In vero, Vediamo che sei uno di coloro che compiono il bene. Rispose Giuseppe, Non vi sarà distribuito cibo, Prima che vi abbia reso edotti sulla loro interpretazione. Ciò è parte di quel che il mio Signore mi ha insegnato. In verità, Ho abbandonato la religione di un popolo che non crede in Allah, E disconosce l'altra vita. E seguo la religione dei miei avi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Non dobbiamo associare ad Allah alcunché. Questa è una grazia di Allah per noi e per gli uomini, Ma la maggior parte di loro sono ingrati. O miei compagni di prigione, Una miriade di signori sono forse meglio di Allah, L'unico, Colui che prevale? Non adorate all'infuori di Lui Altro che nomi che voi e vostri avi avete inventato, E a proposito dei quali, Allah non ha fatto scendere nessuna prova. In verità il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di non adorare altri che Lui. Questa è la religione immutabile. Eppure la maggior parte degli uomini lo ignora. O miei compagni di prigione, Uno di voi due verserà il vino al suo Signore, L'altro sarà crocifisso E gli uccelli beccheranno la sua testa. Le questioni sulle quali mi avete interpellato Sono così stabilite. E disse a quello dei due che a suo avviso si sarebbe salvato, Ricordami presso il tuo Signore. Satana fece sì che dimenticasse di ricordarlo al suo Signore. Giuseppe restò quindi in prigione per altri anni. Disse al re In vero, vidi in sogno sette vacche grasse Che sette vacche magre divoravano E sette spighe verdi E sette altre secche. O notabili, Interpretatemi la mia visione Se siete capaci di interpretare i sogni. Risposero, Incubi confusi. Non sappiamo interpretare gli incubi. Quello dei due che era stato liberato Si ricordò infine di lui Ed esclamò Io vi rivelerò il significato Lasciate che vada. Disse O Giuseppe, O veridico, Spiegaci il significato di sette vacche grasse Che sette magre divorano E di sette spighe verdi E di sette altre secche. Che io possa tornare a quella gente Ed essi possano sapere. Rispose, Coltiverete per sette anni Come vostra consuetudine. Tutto quello che avrete raccolto Lasciatelo in spiga Eccetto il poco che consumerete. Verranno poi sette anni di carestia Che consumeranno tutto quello Che avrete risparmiato Eccetto quel poco che conserverete. Dopo di ciò verrà un'annata In cui gli uomini saranno soccorsi E andranno al frantoio. Disse il re Conducetemelo. Quando giunse il messaggero Giuseppe disse Ritorna presso il tuo signore E chiedigli Cosa volevano le donne Che si tagliuzzarono le mani. In vero il mio signore Ben conosce le loro astuzie. Chiese allora Il re alle donne Qual era la vostra intenzione Quando volevate sedurre Giuseppe? Risposero Allà ce ne guardi Non conosciamo male alcuno A suo riguardo. La moglie del principe disse Ormai la verità è manifesta Ero io che cercavo di sedurlo. In verità egli E' uno di coloro Che dicono il vero. Disse Giuseppe Ho sollecitato questa inchiesta Voglio tenerlo Voglio tenerlo presso di me Quando poi gli ebbe parlato Disse D'ora in poi Rimarrai al nostro fianco Con autorità e fiducia Rispose Affidami i tesori della terra Sarò buon guardiano Ed esperto Così Demmo Giuseppe Autorità su quella terra E dimorava dove voleva Facciamo sì Che la nostra misericordia Raggiunga chi vogliamo E che non vada perso Il compenso di coloro Che operano il bene E il compenso Dell'altra vita E' migliore Per coloro che credono E hanno timor di Allà Giunsero i fratelli di Giuseppe E si presentarono Davanti a lui Egli li riconobbe Mentre essi Non lo riconobbero Dopo che li ebbe riforniti Di provviste Disse loro Conducetemi il vostro fratello Da parte di padre Non vedete Come vi ho colmato Il carico E che sono il migliore Degli ospiti Se non lo condurrete Da parte mia Non ci saranno più carichi Per voi E non mi potrete Più avvicinare Dissero Cercheremo di convincere Suo padre E certamente Ci riusciremo Disse poi Ai suoi garzoni Nascondete Le loro merci Nei loro bagagli Che le riconoscano Quando saranno giunti Presso la loro gente E forse Ritorneranno Quando furono Di ritorno Presso il padre loro Gli dissero O padre Non potremo più Avere altri carichi Lascia venire Con noi Nostro fratello Ci potremo Rifornire E certamente Veglieremo su di lui Disse Ve lo dovrei affidare Come già vi affidai Suo fratello E Allah Il migliore Dei guardiani Ed egli È il più misericordioso Dei misericordiosi Quando poi Disfecero i bagagli Scoprirono Che gli erano Stati rese De loro merci Dissero O padre Cosa potremmo Desiderare di più Ecco Le nostre merci Ci sono state restituite Provvederemo Alla nostra gente E veglieremo Su nostro fratello Aggiungeremo Un altro carico Di cammello Sarà un carico Facile Disse Giacobbe Non lo manderò Con voi Finché non giurerete Su Allah Che me lo riporterete A meno che non siate Del tutto Sopraffatti Poi Dopo che ebbero Giurato Disse loro Allah È il garante Di quello Che abbiamo detto Disse O figli miei Non entrate Da una sola porta Ma entrate Da porte diverse In nulla potrei Proteggervi Nei confronti Di Allah La decisione Appartiene solo Ad Allah E in lui Confido In lui Confidino Coloro Che confidano Pur essendo Entrati nel modo Che loro padre Aveva raccomandato Ciò non li avrebbe Protetti Da Allah Non fu altro Che uno scrupolo Nell'animo di Giacobbe Ed egli lo soddisfece In vero Egli era colmo Della scienza Che noi gli avevamo Insegnato Mentre la maggior parte Degli uomini Non sanno E quando furono Introdotti Da Giuseppe Questi trasse In disparte Suo fratello Beniamino E gli disse Io sono Tuo fratello Non essere dunque Triste Per quello Che mi hanno fatto Dopo che Li ebbe riforniti Fece nascondere Una coppa Nei bagagli Di suo fratello Gridò omesso O voi della carovana In vero Siete dei ladri Si arrestarono E chiesero Cosa cercate Risposero La coppa del re Un carico di cammello Destinato a chi La riporterà Io ne sono garante Dissero Per Allah Sapete bene Che non siamo venuti A spargere La corruzione Sulla terra E che non siamo Dei ladri Quale sarà La sanzione Se mentite Dissero Gli egiziani Risposero Il riscatto Colui Ne cui bagagli Troverete la coppa Sarà egli stesso Il suo riscatto E così Che sanzioniamo Gli ingiusti Giuseppe Iniziò Dai sacchi Degli altri Prima che Da quello Di suo fratello E infine La trasse Dei bagagli Di quest'ultimo Suggerimmo noi Quest'astuzia Giuseppe Che altrimenti Non avrebbe potuto Trattenere suo fratello Nel rispetto Della legge Del re A meno che Allah Non l'avesse voluto Eleviamo Il rango Di chi vogliamo E sopra Ogni sapiente C'è L'onnisciente Disse Se ha rubato Già Uno dei suoi fratelli Aveva rubato Giuseppe Nascose Il sentimento Nel suo cuore Senza mostrare Loro nulla Disse In vero La vostra situazione È peggiore E Allah Sa cosa Affermate Implorarono Oh potente Suo padre È molto vecchio Prendi uno di noi In sua vece Tu sei Tra coloro Che ben agiscono Disse Ci guardi Allà Dal prendere Altri Che colui Presso il quale Abbiamo ritrovato I nostri beni Che in tal caso Saremmo ingiusti Quando persero La speranza Di riaverlo Discussero Tra loro In segreto Disse il maggiore Non ricordate Che vostro padre Vi chiese Di giurare Davanti ad Allà E come già Una volta Mancaste Nei confronti Di Giuseppe Non lascerò Questo territorio Senza che mio padre Me ne dia il permesso O senza che Allà Abbia giudicato In mio favore Egli è il migliore Dei giudici Tornate dal padre vostro E ditegli Oh padre mio Tuo figlio Ha rubato Non abbiamo testimoniato Eccetto che per quello Che sappiamo Non potevamo Prevedere L'ignoto Chiedi pure Agli abitanti Della città E a quelli Della carovana Con la quale Siamo tornati Davvero Siamo sinceri Disse Giacobbe Sono piuttosto Le vostre passioni Che vi hanno ispirato Qualcosa Bella pazienza Chissà che Allame Li restituisca Tutti quanti In verità Egli È il sapiente Il saggio Volse loro Le spalle E disse Ahimè Quanto mi dolgo Per Giuseppe Sbiancarono i suoi occhi Per la tristezza E fu sopraffatto Del dispiacere Dissero Per Allah Smetti di ricordare Giuseppe Finirei per consumarti E morirne Rispose Mi lamento Solo davanti ad Allah Della mia disgrazia Del mio dolore E grazie ad Allah Conosco cose Che voi non sapete Andate figli miei Cercate Giuseppe E suo fratello E non disperate Del soccorso di Allah Che solo i miscredenti Disperano Del soccorso di Allah Quando poi Entrarono Ancora una volta A cospetto di lui Dissero O principe Ci ha colpiti la disgrazia Noi e la nostra famiglia Abbiamo recato Merce di scarso valore Riempici comunque La misura E facci la carità Che Allah Compense caritatevoli Rispose Non ricordate Quello che faceste A Giuseppe E a suo fratello Nella vostra ignoranza Dissero Sei tu proprio Giuseppe Disse Io sono Giuseppe E questo è mio fratello In verità Allah Ci ha colmato di favori Chi è timorato E paziente Sappia che in verità Allah Non trascura Di compensare Chi fa il bene Dissero Per Allah Certo Allah Ti ha preferito a noi E certo noi Siamo colpevoli Disse Oggi non subirete Nessun rimprovero Che Allah Vi perdoni Egli è il più Misericordioso Dei misericordiosi Andate con questa mia camicia E posatela sul viso Di mio padre Vi acquisterà la vista Conducetemi tutta La vostra gente Non appena la carovana Fu ripartita Disse il padre loro Davvero Sento l'odore di Giuseppe E non dite Che sto delirando Gli risposero Per Allah Sei ancora in preda Alla tua vecchia fissazione Quando giunse Il latore Della buona novella Pose la camicia Sul volto di Giacobbe Egli Riacquistò la vista E disse Non vi avevo appunto Detto Che grazie ad Allah Conosco cose Che voi non sapete Dissero O padre Implora perdono Per i nostri peccati Perché veramente Siamo colpevoli Rispose Implorerò per voi Il perdono Del mio signore Egli è il perdonatore Il misericordioso Quando furono introdotti Alla presenza di Giuseppe Questi accolse il padre E la madre E disse Entrate in Egitto In sicurezza Se Allah vuole Fece salire i suoi genitori Sul suo trono E tutti caddero In prosternazione Disse O padre Ecco il significato Del mio sogno Di un tempo Il mio signore Lo ha avverato Egli è stato buono Con me Quando mi ha tratto Dalla prigione E vi ha condotti Qui dal deserto Dopo che Satana Si era intromesso Tra me e miei fratelli In verità Il mio signore È dolcissimo In quello che vuole Egli è il sapiente Il saggio O mio signore Mi hai dato qualche potere E mi hai insegnato L'interpretazione Dei sogni O creatore Dei cieli Della terra Tu sei il mio patrono In questa vita Come nell'altra Fammi morire Musulmano E ponimi Tra i devoti Sono queste Le storie segrete Che ti riveliamo Che certo Non eri tra loro Quando si riunivano Per tramare La maggior parte Degli uomini Non crederanno Nonostante Il tuo ardente Desiderio Eppure Non chiedi loro Alcun compenso Questo Corano Non è che un monito Per i mondi E quanti segni Nei cieli E sulla terra Cui gli uomini Passano accanto Voltando loro Le spalle La maggior parte Di loro Non crede Nalla Se non attribuendogli Associati Sono forse certi Che non gli avvolga Il castigo Di alla O che non giunga Improvvisa L'ora Mentre sono Incoscienti Di Ecco la mia via Invito ad alla In tutta chiarezza Io stesso E coloro Che mi seguono Gloria ad alla Non sono Uno dei politeisti Non inviamo Prima di te Altro che uomini Abitanti delle città E che noi ispirammo Non viaggiano Forse sulla terra E non vedono Qual è stata La fine di coloro Che furono Prima di loro Certo la dimora Dell'altra vita È migliore Per quelli Che temono alla Non capite dunque Quando poi Messaggeri Stavano per Perdere la Speranza Ritenendo Che sarebbero Passati Per bugiardi Ecco che Giunse Il nostro Soccorso Abbiamo Salvato Quelli Che abbiamo Voluto Che la Nostra Severità Non sarà Allontanata Dagli Empi Nelle loro Storie C'è una Lezione Per coloro Che hanno Intelletto Questo corano Non è certo Un discorso Inventato Ma è la Conferma Di ciò Che lo Precede Una Spiegazione Dettagliata Di ogni Cosa Una Guida E una Misericordia Per coloro Che credono Sura Tredicesima Alif Lam Mim Ra Questi Sono i Versetti Del libro Ciò Che è Stato Fatto Scendere Su Di Te Da Parte Del Tuo Signore È La Verità Ma La Maggior Parte Degli Uomini Non Crede Alla È Colui Che Ha Innalzato I Cieli Senza Pilastri Visibili E Quindi Si è Innalzato Sul Trono Ha Sottomesso Il Sole E La Luna Ciascuno In Corsa Verso Il Suo Termine Stabilito Ogni Cosa Dirige Ed Esplica I Segni Si Che Possiate Avere Certezza Dell' Incontro Con Il Vostro Signore Ed Egli È Colui Che Ha Disteso La Terra Vi Ha Posto Montagne E Fiumi E Di Ogni Frutto Ha Stabilito In Essa Una Coppia Giorno Ecco I Segni Per Coloro Che Riflettono Sulla Terra Ci Sono Porzioni Vicine Le Une Alle Altre Vigneti Campi Di Grano E Palmeti A Ciuffo O Separati Che La Stessa Acqua In Riga Agli Un Diamo Però Preminenza Di Frutti Sugli Altri In Ciò Vi Sono Segni Per Coloro Che Capiscono Se Ti Stupisci È Davvero Stupefacente Il Loro Dire Quando Saremo Polvere Davvero Passeremo Una Nuova Creazione Sono Quelli Che Rinnegano Il Loro Signore E Che Avranno Al Collo Catene Sono I Compagni Del Fuoco In cui Rimarranno In Perpetuo E Ti Chiedono Di Sollecitare Il Male Prima Del Bene Eppure Prima Di Loro Si Produssero Castighi Esemplari In Verità Il Tuo Signore È Disposto Al Perdono Degli Uomini Nonostante La Loro Iniquità In Verità Il Tuo Signore È Severo Nel Castigo Dicono I Miscredenti Perché Non è Stato Fatto Scendere Su Di Lui Un Segno Da Parte Del Suo Signore In Verità Tu Non Sei Che Un Ammonitore E Ogni Popolo Ha La Sua Guida Alla Conosce Quello Che C'è Ogni Femmina Conosce La Diminuzione Degli Uteri E Loro Aumento Ogni Cosa A Giusta Misura Presso Di Lui Che Egli È Il Conoscitore Dell'Invisibile Del Visibile Il Grande Il Sublime Per Lui Non c'è Differenza Tra Chi Mantiene Un Segreto E Chi Lo Divulga Tra Chi Si Cela Nella Notte E Chi Si Muove Liberamente In Pieno Giorno Ci Sono Angeli Davanti E Dietro Ogni Uomo E Vegliano Su Di Lui Per Ordine Di Allah In Verità Allah Non Modifica La Realtà Di Un Popolo Finché Esso Non Muta Nel Suo Intimo Quando Allah Vuole Un Male Per Un Popolo Nessuno Può Allontanarlo Ne Avranno All'infuori Di Lui Alcun Protettore Egli E' Colui Che Vi Fa Vedere Il Lampo Fonte Di Timore Di Speranza Colui Che Forma Le Nuvole Pesanti Il Tuono Lo Glorifica E Lo Loda E Così Gli Angeli Insieme Nel Timore Di Lui Scaglia I Fulmini E Colpisce Chi Vuole Mentre Essi Discutono Su Allah Colui Che Temibile Nella Sua Potenza A Lui Spetta La Vera Invocazione Quelli Che Invocano All'infuori Di Lui Non Rispondono Loro In Alcon Che Sono Come Colui Che Tende Le Mani Verso L'acqua Finché Giunga La Sua Bocca Ma Essa Non Vi Giunge Vana E L'invocazione Dei Miscredenti Volenti O Nolenti Si Prosternano Ad Allah Coloro Che Sono Nei Cieli E Sulla Terra E Anche Le Ombre Loro Al Mattino E Alla Sera Di Chi È Il Signore De Cieli E Della Terra Rispondi Allah Di Prendereste All'infuori Di Lui Patroni Che Per Se Stessi Non Possiedono Né Il Bene Nel Male Di Sono Forse Uguali Il Ceco E Colui Che Vede Sono Forse Uguali Le Tenebre E La Luce Hanno Forse Associato Ad Allah Esseri Che Creano Come Allah Ha Creato Così Che La Loro Creazione Possa Essere Assimilata A Quella Di Allah Di Allah È Il Creatore Di Tutte Le Cose Egli È L'unico Il Supremo Dominatore Fa Scendere L'acqua Dal Cielo E Le Valli Si Inondano Secondo La Loro Capienza E La Corrente Trasporta Schiuma Gorgogliante Una Schiuma Simile A Ciò Che Si Fonde Sul Fuoco Per Trarne Gioielli Utensili Così Allah Propone A Metafora Del Vero E Del Falso Si Perde La Schiuma E Resta Sulla Terra Ciò Che È Utile Agli Uomini Così Allah Propone Le Metafore Coloro Che Rispondono All'appello Del Loro Signore Avranno La Migliore Ricompensa Quanto Coloro Che Non Avranno Risposto Se Possedessero Tutto Ciò Che È Sulla Terra E Ancora Altrettanto Lo Offrirebbero Per Riscattarsi Avranno Il Peggiore Dei Bilanci E L'inferno Sarà Il Loro Rifugio Qual Cristo Giaciglio Colui Che Sa Che Ciò Che Ti È Stato Rivelato Da Parte Del Tuo Signore È La Verità È Forse Come Colui Che È Cieco In Verità Riflettono Solo Coloro Che Sono Dotati Di Intelletto Coloro Che Si Attengono Al Patto Con All'ah E Non Mancano All'impegno Coloro Che Uniscono Quello Che All'ah Ha Ordinato Di Unire Temono Il Loro Signore Paventano Che Il Loro Bilancio Sia Negativo Coloro Che Perseverano Nella Ricerca Del Volto Del Loro Signore Assolvono All'orazione Danno Pubblicamento In Segreto Di Ciò Di Cui Li Abbiamo Provisti E Respingono Il Male Con Il Bene Essi Avranno Per Dimora Ultima I Giardini Dell'Eden In cui Entreranno Insieme Probi Tra I Loro Padri Le Angeli Andranno A Visitarli Entrando Da Ogni Porta E Diranno Pace Su Di Voi Poiché Siete Stati Perseveranti Come È Bella La Vostra Ultima Dimora Coloro Che Infrangono Il Patto Di Allà Dopo Averlo Accettato Spezzano Ciò Che Allà Ha Ordinato Di Unire E Spargono La Corruzione Sulla Terra Quelli Saranno Maledetti E Avranno La Peggiore Delle Dimore Allà Dà Generosamente A chi Vuole E Lesina A chi Vuole Essi Si Rallegrano Di Questa Vita Che In Confronto All'altra Non È Che Godimento Effimero Dicono I Miscredenti Perché Non è Stato Fatto Scendere Su Di Lui Un Segno Da Parte Del Suo Signore Rispondi In Verità Allà Allontana Chi Vuole E Guida A lui Chi Si Converte Coloro Che Credono Che Rasserenano I Loro Cuori Al Ricordo Di Allà In Verità I Cuori Si Rasserenano Al Ricordo Di Allà Coloro Che Credono E Operano Il Bene Avranno La Beatitudine E Il Miglior Rifugio Così Ti Inviamo A Una Comunità Dopo Che Altre Comunità Erano Passate Affinché Recitassi Loro Quello Che Noi Ti Abbiamo Rivelato Ma Negano Il Compassionevole E Lui Il Mio Signore Non C'è Altro Dio Che Lui Ripongo In Lui La Mia Fiducia Che Ritorno A Lui Se Ci Fosse Una Recitazione Che Smuovesse Le Montagne Fendesse La Terra E Facesse Parlare I Morti In Vero L'Ordine Di Tutte Le Cose Appartiene Ad Allà Non Vedono I Credenti Che Allà Se Volesse Potrebbe Guidare Tutti Gli Uomini Sulla Retta Via E I Miscredenti Saranno Colpiti Da Un Cataclisma Compenso Del Loro Agire O La Disgrazia Sarà Prossima Le Loro Case Finché Si Realizzi La Promessa Di Allà In Verità Allà Non Manca La Promessa Certamente I Messaggeri Che Ti Hanno Preceduto Sono Stati Scherniti Ma Ho Concesso Una Tregua A Miscredenti Quindi Li Ho Ferrati Come Fu Duro Allora Il Mio Castigo Colui Che Sorveglia Ciò Che Ogni Anima Acquisisce E Forse Simile Alle Vostre Divinità E Pure Gli Attribuiscono Consoci Di Nominateli Dunque Vorreste Insegnargli Quello Che Ignora Della Terra Oppure Il Vostro È Solo Un Modo Di Dire Sì La Perfidia Dei Miscredenti È Stata Resa Bella Agli Occhi Loro Ed Essi Sono Stati Allontanati Dalla Retta Via Chi È Sviato Da Allà Non Avrà Guida Alcuna Saranno Castigate In Questa Vita Ma Il Castigo Dell' Altra Vita Sarà È Questo Il Giardino Che È Stato Promesso Ai Pii Vi Scorrono Ruscelli Perennemente Vi Sono Frutti E Ombra Ecco Il Destino Dei Timorati Di Allà Mentre Il Destino Dei Miscredenti È Il Fuoco Colora I Quali Abbiamo Dato La Scrittura Si Rallegrano Di Ciò Che Abbiamo Fatto Scendere Su Di Te Mentre Fra Le Fazioni Vi E Chi Altro Ordine È Quello Di Adorare Allà Senza Associargli Alcunché Vi Chiamo A Lui E Verso Di Lui Tornerò E Così Abbiamo Fatto Scendere Una Norma In Arabo Se Segui I Loro Desideri Dopo Quel Che Ti È Giunto Della Sapienza Non Avrai Davanti Ad Allà Né Patrono Né Difensore In Verità Prima Di Te Inviamo Altri Messaggeri E Provedemmo Loro Spose E Progenie Ma Nessun Messaggero Recò Alcun Segno Se Non Con Il Permesso Di Allà Ogni Epoca Ha Avuto La Sua Scrittura Allà Cancella Quello Che Vuole E Conferma Quello Che Vuole È Presso Di Lui La Madre Del Libro Sia Che Ti Mostriamo Ciò Che Promettiamo Loro Sia Che Ti Facciamo Morire Prima A Te Incombe Il Comunicare A Noi La Resa Dei Conti Non Vedono Forse Che Restringiamo I Loro Confini Esterni Allà 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 Giudica E Nessuno Può Apporci Al Suo Giudizio Ed Egli È Rapido Al Conto Coloro Che Li Hanno Preceduti Hanno Tramato Ma Ad Allà Appartiene La Strategia Suprema Egli Conosce Ciò Che Ogni Anima Meritato E Ben Presto I Miscredenti Sapranno A Chi Appartiene La Dimora Ultima Dicono I Miscredenti Tu Non Sei Un Inviato Rispondi Mi Basta Allà Testimone Tra Me E Voi Colui Che Possiede La Scienza Del Libro Sura Quattordicesima Alif Lam Ra Abbiamo Fatto Scendere Su Di Te Un Libro Affinché Con Il Permesso Del Loro Signore Tu Tragga Le Genti Dalle Tenebre Alla Luce Sulla Via Dell'Eccelso Del Degno Di Lode La Via Di Allà Cui Appartiene Quel Che Ne Cede Sulla Terra Guai A Coloro Che Non Credono Subiranno Un Severo Castigo Essi Amano Questa Vita Più Dell' Altra Frappongono Ostacoli Sul Sentiero Di Allà E Cercano Di Renderlo Tortuoso Sono Infossati Nell'errore Non Inviamo Alcun Messaggero Se non Nella lingua Del suo Popolo Affinché L'informasse Allà Svia Chi Vuole E Guida Chi Vuole Ed Egli È L'Eccelso Il Sapiente Già Mandammo Mosè Con I Nostri Segni Fa Uscire La Tua Gente Dalle Tenebre Alla Luce E Ricorda Loro I Giorni Di Allà Ecco Dei Segni Per Ogni Uomo Paziente Grato E Quando Mosè Disse Al Suo Popolo Ricordate I Favori Che Allà Vi Ha Allergito Quando Vi Salvò Dalla Gente Di Faraone Che Vi Infliggeva La Peggiore Delle Torture Uccidevano I Vostri Maschi E Lasciavano In Vita Le Femmine Era Questa Una Dura Prova Da Parte Del Vostro Signore E Quando Il Vostro Signore Proclamò Se Sarete Riconoscenti Accrescerò La Mia Grazia Se Disse Mosè Se Sarete Ingrati Voi E Tutti Quelli Che Sono Sulla Terra Allà Sappiatelo Di Nulla Bisogna E Il Degno Di Lode Non Vi È Giunta Notizia Di Quelli Che Vissero Prima Di Voi Del Popolo Di Noè Degli Ad Dei Thamud E Di Quelli Che Vennero Dopo E Che Allà Solo Conosce Vennero I Loro Profeti Con Non Crediamo In Quello Con Cui Siete Stati Inviati E Siamo In Dubbio Profondissimo Circa Quello Che Ci Proponete Dissero Loro I Profeti Come Può Eservi Dubbio A Proposito Di Allà Il Creatore Dei Cieli E Della Terra Colui Che Vi Si Rivolge Per 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 Delle Vostre Colpe E Rinviarvi Fino Al Termine Prestabilito Risposo Nemiscredenti Non Siete Altro Che Uomini Come Noi Volete Distoglierci Da Quello Che Adoravano I Nostri Avi Recateci Una Prova Inequivocabile Dissero Loro I Profeti Certamente Siamo Uomini Come Voi Ma Allà Favorisce Che Egli Vuole Tra I Suoi Servi Non Possiamo Recarvi Una Prova Se Non Con Il Permesso Di Allà In Allà Confidino I Credenti E Come Potremmo Non Confidare In Allà Quando Egli Ci Ha Guidati Sui Nostri Sentieri Sopporteremo Con Pazienza Le Persecuzioni Di Qui Ci Farete Oggetto Confidino In Allà Coloro Che Confidano Coloro Che Non Credevano Dissero I Loro Profeti Vi Cacceremo Senza Fallo Dalla Nostra Terra A Meno Che Non Ritorniate Alla Nostra Religione Ma Il Loro Signore Rivelò Loro Distruggeremo Certamente Gli Iniqui E Vi Faremo Dimorare Sulla Terra Dopo Di Loro Questa La Ricompensa Per Chi Teme La Mia Presenza E Teme La Minaccia Cercarono La Vittoria Fu Sconfitto Ogni Ostinato Tiranno E Destinato All'Inferno E Sarà Beverato Di Acqua Fetida Che Cercherà Di Inghiottire A Piccoli Sorsi Senza Riuscirvi La Morte Lo Assalirà Da Ogni Parte Eppure Non Potrà Morire Avrà Un Castigo Inattenuabile Questa È La Metafora Di Coloro Che Rinnegano Il Loro Signore Le Loro Azioni Saranno Come Cenere Sulla Quale Infuria Il Vento In Un Giurno Di Tempesta Non Avranno Alcun Pro Da Ciò Che Avranno Fatto Questa È La Perdizione Totale Non Vedi Che Allà Ha Creato I Cieli E La Terra Secondo Verità Se Volesse Vi Farebbe Perire E Susciterebbe Un'altra Creazione Ciò Non È Difficile Per Allà Tutti Compariranno Davanti Ad Allà E I Deboli Diranno A Coloro Che Erano Tronfi D'orgoglio Noi Vi Seguivamo Potete Ora Eserci Utili Contro Il Castigo Di Allà Risponderanno Gli Altri Se Allà Ci Avesse Guidati Certamente Vi Avremmo Guidati Lamento O Sopportazione Ormai Sono Uguali Per Noi Non C'è Rifugio Quando Tutto Sarà Concluso Dirà Satana Allà Vi Aveva Fatto Promessa Sincera Mentre Io Vi Ho Fatto Una Promessa Che Non Ho Mantenuto Qual Potere Avevo Mai Su Di Voi Se Non Quello Di Chiamarvi E Voi Mi Avete Risposto Non Rimproverate Me Rimproverate Voi Stessi Io Non Posso Esservi D'aiuto E Voi Non Potete Essermi D'aiuto Rifiuto L'atto Con Cui Mi Avete Associato Ad Allà In Precedenza In Verità Gli Iniqui Avranno Doloroso Castigo Coloro Che Invece Credono E Operano Il Bene Li Faremo Entrare Nei Giardini Dove Scorrono I Ruscelli E Rimarranno In Perpetuo Con Il Permesso Del Loro Signore Colà Il Loro Saluto Sarà Pace Non Hai Visto A Cosa Allà Paragona La Buona Parola Essa È Come Un Buon Albero La Cu Radice Salda E I Cui Rami Sono Nel Cielo E Continuamente Da Frutti Col Permesso Di Allà Allà Propone Metafora Agli Uomini Affinché Riflettano La Metafora Della Parola Cattiva È Invece Quella Di Una Mala Pianta Sradicata Dalla Superficie Della Terra Non Ha Stabilità Alcuna Allà Rafforza Coloro Che Credono Con La Parola Ferma In Questa Vita Come Nell'altra E Allo Stesso Tempo Svia Gli Ingiusti Allà Fa Ciò Che Vuole Non Li Hai Visti Coloro Che Scambiano Il Favore Di Allà Con La Miscredenza E Trascinano Il Loro Popolo Nella Dimora Della Perdizione Nell' Inferno In Qui Cadranno Qual Trista Dimora Attribuirono Consimile Ad Allà Per Sviare La Gente Dal Suo Sentiero Di Godete Pure La Vostra Destinazione È Il Fuoco Di Ai Miei Servi Credenti Che Assolvano L'Ora Zone E Diano In Pubblico E In Privato Parte Dei Beni Che Abbiamo Loro Concesso Prima Che Giunga Il Giorno In Qui Non Ci Sarà Più Né Commercio Né Amicizia Allà È Colui Che Ha Creato I Cieli E La Terra E Che Fa Scendere L'acqua Dal Cielo E Suo Tramite Suscita Frutti Per Il Vostro Sostentamento Vi 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 Messo A Disposizione Le Navi Che Scivolano Sul Mare Per Volontà Sua E Vi Ha Messo A Disposizione I Fiumi Vi Ha Messo A Disposizione Il Sole E La Luna Che Gravitano Con Regolarità E Vi Ha Messo A Disposizione La Notte E Il Giorno E Vi Ha Dato Parte Di Tutto Quel Che Gli Avete Chiesto Se Voleste Contare I Doni Di Allah Non Potreste Enumerarli In Verità L'Uomo È Ingiusto Ingrato E Ricorda Quando Abramo Disse O Mio Signore Rendi Sicura Questa Contrada E Preserva A me E Miei Figli Dall' Adorazione Degli Idoli O Mio Signore In Verità Essi Già Antraviato Molti Uomini Chi Mi Seguirà Sarai Dei Miei E Loro Che Mi Disobbediscono In Verità Tu Sei Perdonatore Misericordioso O Signor Nostro Ho Stabilito Una Parte Della Mia Progenia In Una Valle Sterile Nei Pressi Della Tua Sacra Casa Affinché O Signor Nostro Assolvano All'orazione Fa Che I Cuori Di Una Parte Dell' Umanità Attendano A Loro Concedi Loro Ogni Specie Di Frutti Forse Ti Saranno Riconoscenti O Signor Nostro Tu Ben Conosci Quello Che Nascondiamo E Quello Che Palesiamo Nulla È Nascosto Ad Allà Nella Terra E Nei Cieli Lode Lode Ad Allà Che Nonostante La Vecchiaia Mi Ha Dato Ismaele E Isacco In Verità Il Mio Signore Ascolta L'invocazione O Signore Concedi A me E Ad Una Parte Della Mia Progenie Di Assolvere All'orazione Esaudisci La Mia Preghiera O Signor Nostro O Signor Nostro Perdona A me Ai Miei Genitori E Ai Credenti Nel Giorno In Cui Si Tireranno Le Somme E Non Credere Che Allà Si Ad Sattento A Quello Che Fanno Gli Iniqui Concede Loro Una Dilazione Fino Al Giorno In Cui I Loro Sguardi Saranno Sbarrati Verranno Umiliati La Testa Immobile Gli Occhi Fissi Il Cuore Smarrito Avverti Leggenti A Proposito Del Giorno In Cui Li Colpirà Il Castigo Allora Coloro Che Saranno Stati Ingiusti Diranno O Signor Nostro Concedici Una Breve Dilazione Risponderemo Al Tuo Appello E Seguiremo I Messaggeri Non Giuravate Di Anzi Che Per Voi Non Ci Sarebbe Stato Declino Eppure Abitavate Nelle Case Di Coloro Che Avevano Fatto Torto A Se Stessi E Quel Che Ne Facemmo Vi Era Ben Noto Vi Abbiamo Citato Gli Esempi Tramarono Ma La Loro Trama È Nota Dalla Fossa Anche Una Trama Capace Di Far A Pezzi Le Montagne Non Credere Che Alla Manchi Alla Promessa Fatta I Suoi Messaggeri Alla È L'Eccelso Il Vendicatore Avverrà Ciò Nel Giorno In Qui La Terra Sarà Trasformata E Parimenti I Cieli In Qui Gli Uomini Compariranno Di Fronte Ad Alla L'Unico Il Supremo Dominatore Vedrà In Quel Giorni Colpevoli Appaiati Nei Ceppi Con Vesti Di Catrame E Volti In Fiamme Così Alla Compenserà Ogni Anima Per Ciò Che Si E Meritata Che In Verità Alla È Questo È Un Messaggio Per Gli Uomini Affinché Siano Avvertiti E Sappiano Che Egli È Il Dio Unico E Perché Rammentino I Dotati Di Intelletto Sura Quindicesima Alif Lam Ra Questi Sono I Versetti Del Libro E La Recitazione Esplicita I Miscredenti Un Giorno Vorranno Essere Stati Musulmani Lasciali Mangiare E Godere Per Un Periodo Lusingati Dalla Speranza Ben Presto Sapranno Non Distruggiamo Alcuna Città Senza Prima Darle Una Scrittura Intellegibile Nessuna Comunità Può Anticipare Il Suo Termine Né Ritardarlo E Dicono O Tu Su Cui È Stato Fatto Scendere Il Monito Sei Certamente Posseduto Da Un Demone Perché Se sei Sincero Non sei Accompagnato Dagli Angeli Non faremo Scendere Gli Angeli Se non Con la Verità E a Quella Gente In quel Giorno Non sarà Dato Scampo Noi 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 Ne Siamo I Custodi Già Prima Di Te Ne Inviamo Alle Antiche Sette E Non Venne Loro Messaggero Di Qui Non Si Burlassero Lasciamo Lasciamo Che Ciò Si Insinui Nei Cuori Degli Empi Non Crederanno Affatto Nonostante L'esempio Dei Loro Antenati Se Anche Aprissimo Loro Una Porta Del Cielo Perché Possano Scendervi Direbbero I Nostri Occhi Sono Ipnotizzati O Ci Hanno Lanciato Un Sortilegio In Verità Ponemmo Costellazioni Nel Cielo E Lo Abbellimmo Per Coloro Che Lo Osservano E Lo Proteggiamo Ad Ogni Demone Lapidato Se Uno Di Loro Cerca Di Origliare Un Folgorante Bolide Lo Insegue E La Terra L'abbiamo Distesa E Vi Abbiamo Infisso Le Montagne E Ogni Cosa Abbiamo Fatto Crescere Con Dovuta Misura Alimenti Vi Ponemmo Per Voi E Per Tutti Coloro Che Voi Non Nutrite Affatto Di Ogni Cosa Abbiamo Tesori Ma La Facciamo Scendere In Quantità Misurata I Venti Mandammo Portatori Di Fertilità E Dal Acqua Con La Quale Vi Dissetiamo E Che Non Sapreste Conservare In Verità Noi Facciamo Vivere E Facciamo Morire E Noi Siamo L'erede Ultimo Di Ogni Cosa Noi Conosciamo Quelli Che Vi Furono Precursori E Conosciamo Quelli Che Ancora Tardano In Verità Il Tuo Signore Tutti Li Riunirà Egli È Saggio Sapiente Creammo L'uomo Con Argilla Secca Tratta Da Mota Impastata E In Precedenza Creammo I Demoni Dal Fuoco Di Un Vento Bruciante E Quando Il Tuo Signore Disse Agli Angeli Creerò Un Uomo Con Argilla Secca Tratta Da Mota Impastata Quando Poi Lo Avrò Plasmato E Avrò Insufflato In Lui Del Mio Spirito Prosternatevi Davanti A Lui E Gli Angeli Tutti Si Prosternarono E Cetto Iblis Che Rifiutò Di Essere Insieme Prosternati Allà Disse O Iblis Perché Non Sei Tra Coloro Che Si Prosternano Rispose Non Devo Prosternarmi Di Fronte A Un Mortale Che Hai Creato Di Argilla Rissuonante Di Mota Impastata Allà Disse Fuori Di Qui Che Tu Sia Bandito In Verità Sei Maledetto Fino Al Giorno Del Giudizio Disse O Signor Mio Concedimi Una Dilazione Fino Al Giorno In Cui Saranno Resuscitati Allà Disse Che Tu Sia Fra Coloro A Qui Concesse La Dilazione Fino Al Giorno Del Momento Fissato Disse O Signor Mio Poiché Mi ha Indotto All'errore Li Attirerò Al Male Sulla Terra Rendendola Attreente E Certamente Li Farò Perdere Tutti Eccetto I Tuoi Servi Sinceri Allà Disse Questa Sarà La Retta Via Da Me Costudita Non Avrai Alcun Potere Sui Miei Servi Eccetto I Perduti Che Ti Obbediranno E L'Inferno Sarà Certo Il Loro Ritrovo Esso Ha Sette Porte E Ciascuna Ne Avrà Dinnanzi Un Gruppo I Timorati Invece Saranno Tra Giardini E Fonti Sarà Detto Loro Entratevi In Pace E Sicurezza Monderemo Il Non Proveranno Fatica Alcuna E Mai Verranno Espulsi O Muhammad Annuncia I miei Servi Che In Verità Io Sono Il Perdonatore Il Misericordioso E Che Il Mio Castigo È Davvero Un Castigo Doloroso E Racconta Loro Degli Ospiti Di Abramo Entrarono Nella Sua Casa Dicendo Pace Disse In Vero Ci Fate Paura Dissero Non Temere Noi Ti Annunciamo Un Figlio Sapiente Disse Mi Date Questo Annuncio Quando Già Mi Ha Raggiunto La Vecchiaia Che Specie Di Annuncio È Questo Dissero Quello Che Ti Annunciamo È La Verità Non Essere Fra Coloro Che Disperano Disse Chi Mai Dispera Della Misericordia Del Suo Signore Se Non Gli Sviati Disse Ancora Qual è La Vostra Missione O Inviati Risposero Siamo Stati Inviati A un Popolo Di Empi A parte La Famiglia Di Lot Che Tutta Salveremo Eccetto Sua Sua Decretammo Che Fosse Tra Quelli Che Sarebbero Rimasti Indietro Quando Poi Gli Inviati Giunsero Presso La Famiglia Di Lot Questi Disse Loro In Vero Siete Gente Che Non Conosciamo Risposero Anzi Siamo Venuti A Te Per Recare Ciò Di Cui Dubitano Siamo Venuti Con La Verità E In Verità Siamo Sinceri Fai Partire La Tua Gente Quando È Ancora Notte E Stai In Retroguardia E Che Nessuno Si Volti A Guardare Indietro Andate Dove Vi È Stato Ordinato Questo Decidemmo Ne Suoi Confronti Che In Verità Tutti Gli Altri Al Mattino Seguente Sarebbero Stati Annientati Vennero Infatti Gli Abitanti Della Città Rallegrandosi Disse Lot Sono I Mie Ospiti Non Disonoratemi Temete Allah E Non Copritemi Di Vergogna Risposero Già Ti Abbiamo Proibito Di Proteggere Chi Che Sia Disse Ecco Le Mie Figlie Se Proprio Volete Farlo Per La Tua Vita O Mohamad Erano Accecati Dalla Loro Lussuria All'alba Di sorprese Il grido Sconvolgemmo La città E facemmo Piovere Su di essa Pietra D'argilla Indurita In verità In verità In ciò Vi è un segno Per coloro Che ne Tengono Conto In verità Essa Si trovava Su una strada Ben nota In verità In ciò Vi è un segno Per coloro Che credono E anche Gli abitanti Di Al-Aika Erano Iniqui Ci siamo Vendicati Di loro In vero Quelle due Sono Su una strada Ben riconoscibile Già Gli abitanti Di Al-Hijr Tacciarono Di menzogne Messaggeri Demmo Loro I nostri Segni Ma Rimasero Indifferenti Scavavano Nelle montagne Le loro Case sicure Ma al mattino Li sorprese Il grido Quello Che avevano Fatto Non li riparò Non abbiamo Creato I cieli E la terra E quello Che vi è Fra mezzo Se non Con la verità In verità L'ora Si avvicina Perdona Dunque Magnanimamente In verità Il tuo Signore È l'incessante Creatore Il Sapiente Ti abbiamo Dato I sette Ripetuti E il sublime Corano Non volgere Gli occhi Con invidia Dell'effimero Benessere Che abbiamo Concesso Da alcuni Di loro E neppure Devi rattristarti Per loro Abbassa Però La tua Ala Verso I credenti Di Sono Nunze Evidente Di un castigo Lo stesso Che facemmo Scendere Sui congiurati E quelli Che fanno Del Corano Una cozzaglia Slegata Per il tuo Signore Tutti Li interrogheremo A proposito Di quello Che facevano Proclama Con forza Quello Che ti è Stato Ordinato E rifugi Dagli Associatori Noi Ti bastiamo Contro Chi Ti schernisce Contro Coloro Che affiancano Ad Allah Un'altra Divinità Presto Sapranno Ben sappiamo Che il tuo petto Si affligge Per quello Che dicono Glorifica Il tuo Signore Lodandolo E sii Tra coloro Che si Prosternano E adora Il tuo Signore Finché non ti Giunga L'ultima Certezza Sura Sedicesima Giunge Giunge L'ordine Di Allah Non cercate Di affrettarlo Gloria A Lui Egli è Ben più alto Di ciò Che gli associano Per ordine Suo Scendono Gli angeli Con la rivelazione Su chi Egli vuole Tra i suoi servi Ammonite Le genti Che non c'è Altro Dio L'infuori Di me Temetemi Dunque Egli ha creato I cieli E la terra Secondo verità Egli è Ben più alto Di ciò Che gli associano Creò L'uomo Da una goccia Di sperma Ed ecco Lo manifesto Oppositore Creò Le greggi Da cui Traete calore E altri Vantaggi E di cui Vi cibate E com'è Bello Per voi Quando le Riconducete All'ovile E quando Uscite Al pascolo Trasportano I vostri Pesi Verso Contrade Che non Potreste Raggiungere Se non Con grande Fatica In verità Il vostro Signore Dolce Misericordioso E vi ha Dato i cavalli I muli E gli asini Perché li Montiate E per Ornamento E crea Cose Che voi Non Conoscete Guidarvi Sulla retta Via E prerogativa Di Allà Poiché Altre Vie Se ne Allontanano Se volesse Vi guiderebbe Tutti Egli è colui Che ha fatto scendere L'acqua dal cielo Bevanda per voi Ed erba Per i pascoli Per mezzo suo Ha fatto germinare I cereali E l'olivo Le palme E le vigne E ogni altro frutto In verità In ciò Vi è un segno Per gente Che sa riflettere Vi ha messo a disposizione La notte E il giorno Il sole E la luna Le stelle Sono sottomesse Al suo ordine In verità In ciò Vi sono segni Per gente Che comprende E ha creato Per voi Sulla terra Tutte le cose Di diversi colori In verità In ciò Vi ha un segno Per gente Che ricorda Egli è colui Che vi ha messo A disposizione Il mare Affinché possiate Mangiare pesce Freschissimo E trarne gioielli Con i quali Vi adornate Vedi la nave Scivolarvi Sopra Sciabordando Per condurvi Alla ricerca Della sua grazia Affinché Gli siate Riconoscenti Ha infisso Sulla terra Le montagne Affinché Non oscilli Sotto di voi E ha disposto Fiumi e sentieri Affinché Non vi smariate E ha stabilito Punti di riferimento Le stelle Che vi fanno Da guida Colui che crea È forse uguale A chi non crea Affatto Non riflettete Dunque Se voleste Contare I favori Di Alla Non potreste Enumerarli In verità Alla è perdonatore Misericordioso Alla conosce Quello che Palesate E quello Che celate Coloro Che si invocano All'infuori Di Alla Nulla creano Che anzi Loro stessi Sono creati Essi Sono morti E non vivi E non sanno Affatto Quando saranno Resuscitati Il vostro Il vostro Alla È un Dio Unico Coloro Che non Credono Nell'altra Vita Hanno la Miscredenza Nel cuore E sono Tronfi D'orgoglio Senza Dubbio Alla Conosce Quello Che Celano E quello Che Palesano In verità Egli Non ama Quelli Che sono Tronfi D'orgoglio Quando hai Chiesto Loro Cos'è Quel Che Ha Fatto Scendere Il vostro Signore Rispondono Pavole Degli Antichi Nel Giorno Della Ressurrezione Porteranno Tutto Il Loro Carico E Pure Una Parte Di Quello Di Coloro Che Per Ignoranza Sviarono Quanto È Orribile Il Loro Fardello Coloro Che Li Precedettero Già Avevano Tramato Ma Allà Ha Scalzato Le Basi Stesse Delle Loro Costruzioni Il Tetto Gli Rovinò Addosso E Il Castigo Gli Venne Da Dove Non Lo Aspettavano Nel Giorno Della Ressurrezione Li Coprirà Di Abominio E Dirà Loro Dove Sono I Mi Associati A Favore Dei Quali Eravate In Polemica E Quelli Che Avranno Ricevuto La Scienza Diranno Oggi Ci Saranno Vergogna E Sventura Sui Miscredenti Quelli Che Gli Angeli Della Morte Coglieranno Ancora Ingiusti Verso Se Stessi Allora Faranno Atto Di Sottomissione Dicendo Non Commettemmo Male Alcuno Invece Allà Conosce Perfettamente Quello Che Facevate Oltrepassate Le porte Dell'inferno Per Rimanervi In Perpetuo Come Atroce La Dimora Dei Superbi Verrà Chiesto A Quelli Che Temevano Allà Cos'è Quel Che Ha Fatto Scendere Il Vostro Signore Risponderanno Il Bene Più Grande Coloro Che Fanno Il Bene Avranno Il Bene In Questa Vita Ma La Dimora Dell' Altra Vita E Certo Migliore Quanto Deliziosa Sarà La Dimora Dei Timorati Entreranno Nei Giardini Dell'Eden Dove Scorrono I Ruscelli E Avranno Quello Che Desidereranno Così Allà Compensa Coloro Che Lo Temono Coloro Che Gli Angeli Coglieranno Nella Purezza Dicendo Loro Pace Su Di Voi Entrate Nel Paradiso Compenso Per Quel Che Avete Fatto Cosa Aspettano Quegli Altri Se non Che Vengano Gli Angeli O Giunga Il Decreto Di Allà Già Agirono Così Coloro Che Li Precedettero Non È Allà Che Li Ha Danneggiati Sono Loro Che Hanno Fatto Torto A Se Stessi Saranno Colpiti Dal Male Che Avranno Commesso E Ciò Di Qui Si Burlavano Li Avvolgerà Dicono Gli Idolatri Se Allà Avesse Voluto Non Avremmo Adorato Nulla Oltre A Lui Né Noi Né Nostri Avi E Non Avremmo Interdetto Se Non Ciò Che Egli Ci Ha Proibito Così Agivano Quelli Che Vissero Prima Di Loro Ma Che Altro Compito Hanno I Messaggeri Se Non La Chiara Trasmissione Del Messaggio Ad Ogni Comunità Inviamo Un Profeta Che Dicesse Adorate Allà E Fuggite Gli Idoli Allà Guidò Alcuni Di Essi E Altri Si Persero Sviati Percorrete La Terra E Vedrete Cosa Accadde A Coloro Che Accusarono Di Menzogne Messaggeri Anche Se Li Sappi Che Allà Non Guida Gli Sviati E Non Avranno Nessuno Che Li Soccorrerà Giurano Su Allà Con Il Più Solenne Dei Giuramenti Allà Non Risusciterà Il Morto E Invece Si Vera Promessa Che Egli Si Assume Ma La Maggior Parte Degli Uomini Nulla Conosce Promessa Che Realizzerà Per Mostrar Loro Con Chiarezza Ciò A proposito Di Cui Divergevano E Affinché I Miscredenti Sappiano Di Essere Stati Bugiardi Quando Vogliamo Una Cosa Ci Basta Dire Sì Ed Essa È Quanto A Coloro Che Sono Emigrati Per La Causa Di Allà Dopo Aver Subito La Persecuzione Daremo Loro Una Bella Dimora In Questa Vita Ma Il Compenso Dell'altra Vita È Ben Più Grande Se E Confidato Nel Loro Signore Prima Di Te Non Inviamo Che Uomini Da Noi Ispirati Chiedete Alla Gente Della Scrittura Se Non Lo Sapete Li Inviamo Con Prove Con Salmi E Su Di Te Abbiamo Fatto Scendere Il Monito Affinché Tu Spieghi Agli Uomini Ciò Che È Stato Loro Rivelato E Affinché Possano Riflettervi Coloro Che Tramavano Crimini Sono Forse Assicuro Dal Fatto Che Allà Li Faccia Sprofondare Nella Terra O Che Giunga Loro Il Castigo Da Dove Non Se Lo Aspettano O Che Li Colpisca Nel Pieno Dell' Attività Senza Che Possano Respingerlo O Che Li Colpisca Al Culmine Della Disperazione In Verità Il Vostro Signore È Dolce Misericordioso Non Hanno Visto Che Le Ombre Di Tutto Ciò Che Allà Ha Creato Si Allungano A Destra E A Sinistra Prosternandosi Umilmente Davanti A Lui Si Prosterna Davanti Ad Allà Tutto Ciò Che C'è Nei Cieli Tutti Gli Animali Della Terra E Gli Angeli Che Non Sono Affatto Orgogliosi Temono Il Loro Signore Che Al Di Sopra Di Loro E Fanno Ciò Che È Loro Ordinato Allà Dice Non Adottate Due Divinità In Verità Egli È Il Dio Unico Temetemi Dunque A Lui Appartiene Tutto Ciò Che C'è Nei Cieli E Sulla Terra A Lui Spetta Il Culto Sempiterno Temerete Altri Che Allà Tutto Il Bene Di Cui Godete Appartiene Ad Allà Poi Quando Vi Tocca La Sventura A Lui Rivolgete I Vostri Lamenti Angosciati Quando Poi L'allontano Da Voi Ecco Che Alcuni Associano Divinità Al Loro Signore Disconoscendo Quello Che Abbiamo Dato Loro Godete Pure Per Un Periodo Che Ben Presto Saprete Attribuiscono Parte Di Quello Che Abbiamo Dato Loro A Esseri Che Neanche Conoscono Per Allà Certamente Vi Sarà Chiesto Conto Di Ciò Che Avrete Inventato Attribuiscono Figlie Ad Allà Gloria A Lui E A Loro Stessi Quello Che Più Desiderano Quando Si Annuncia Ad Uno Di Loro La Nascita Di Una Figlia Il Suo Volto Si Adombra E Soffoca In sé La Sua Ira Sfugge Alla Gente Per Via Della Disgrazia Che Gli È Stata Annunciata Deve Tenerla Nonostante La Vergogna O Seppellirla Nella Polvere Quanto È Orribile Il Loro Modo Di Giudicare A Quelli Che Non Credono Nell'altra Vita Si Applica La Metafora Stessa Del Male Mentre La Metafora Più Elevata Spetta Da Allà E Gli L'Eccelso Il Saggio Se Allà Volesse Punire Tutti Gli Uomini Delle Loro Colpe Non Lascerebbe Alcun Essere Vivente Sulla Terra Li Rimanda Fino Al Termine Stabilito Quando Poi Giunge Il Termine Non Potranno Ritardarlo Di Un' Né Anticiparlo Attribuiscono Ad Allà Ciò Che Essi Detestano E Le Loro Lingue Proferiscono Menzogna Quando Dicono Che Avranno Il Meglio Quello Che Indubbiamente Avranno Sarà Il Fuoco In Qui Saranno Spinti Per Allà Certamente Abbiamo Inviato Messaggeri E Le Comunità Che Ti Hanno Preceduto Ma Satana Abbellia I Loro Occhi Le Azioni Loro Bene Oggi Egli E E Loro Patrono Ma Avranno Doloroso Castigo Abbiamo Fatto Scendere Il Libro Su Di Te Affinché Tu Renda Esplicito Quello Su Cui Divergono Affinché Esso Sia Guida E Misericordia Per Coloro Che Credono Allà Fa Scendere L'Acqua Dal Cielo E Suo Tramite Rivivifica La Terra Che Era Già Morta Questo È Certamente Un Segno Per Gente Che Ascolta E In Vero Dei Vostri Greggi Trarrete Un Insegnamento Vi Dissetiamo Con Quello Che Nei Loro Visceri Tra Chimo E Sangue Un Latte Puro Delizioso Per Chi Lo Beve Pure Dei Frutti Dei Palmeti Delle Vigne Ricavate Bevande Nebriante E Cibo Eccellente Ecco Un Segno Per Coloro Che Capiscono E Il Tuo Signore Ispirò Alle Api Dimorate Nelle Montagne Negli Alberi E Negli Edifici Degli Uomini Cibatevi Di Tutti Frutti E Vivete Nei Sentieri Che Vi Ha Tracciato Il Vostro Signore Scaturisce Del Uomini Ecco Un Segno Per Gente Che Riflette Allà Vi Ha Creato Poi Vi Farà Morire Qualcuno Di Voi Sarà Condotto Fino All'età Decrepita Tale Che Nulla Sappia Dopo Aver Saputo Allà È Sapiente Potente Allà Ha Favorito Alcuni Di Voi Al Di Sopra Di Altri Nelle Risorse Materiali Coloro Che Sono Stati Favoriti Le Divideranno Forse Con I Loro Servi Si Da Renderli A Loro Uguali Negerebbero A Tal Punto La Benevalenza Di Allà Allà Vi Ha Dato Spose Della Vostra Specie E Da Loro Vi Ha Dato Figli E Nipoti E Vi Ha Concesso Le Cose Migliori Crederanno Al Falso E Disconosceranno La Benevolenza Di Allà Adorano All'infuori Di Allà Ciò Che Non Procura Loro Alcun Cibo Né Dalla Terra Né Dal Cielo E Che Non Ha Alcun Potere Non Paragonate Nulla Ad Allà Allà Sa E Voi Non Sapete Allà Vi Propone La Metafora Di Un Servo Uno Schiavo Senza Alcun Potere Ed Un Uomo Al Quale Abbiamo Dato Risorse Notevoli E Delle Quali In Pubblico E In Privato Fa Elemosine Sono Forse Uguali Lode Ad Allà Ma La Maggior Parte Di Loro Non Lo Sa E Allà Vi Propone La Metafora Di Due Uomini Uno Di Loro È Muto Buono A Nulla A Carico Del Suo Padrone E Ovunque Lo Si Invii Non Combina Niente Di Buono E Forse Uguale A Chi Comanda Con Giustizia E Cammina Sulla Retta Via Appartiene Ad Allà L'ignoto Dei Cieli E Della Terra L'Ordine Relativo Allora Non Sarà Altro Che Un Batter D'Occhio O Meno Ancora In Verità Allà È Onnipotente Allà Vi Fa Uscire Dei Ventri Delle Vostre Madri Sprovvisti Di Ogni Scienza E Vi Dà Udito Occhi E Intelletto Sarete Riconoscenti Non Hanno Visto Gli Uccelli Sottomessi Ad Allà Nello Spazio Del Cielo Dove Solo Allà Li Sostiene In Ciò Vi Sono Segni Per Coloro Che Credono Allà Vi Ha Concesso Riparo Nelle Vostre Case Come Vi Ha Concesso Dimore Fatte Con Le Pelli Dei Greggi Tende Che Vi Sono Leggere Quando Vi Spostate E Quando Posate Il Campo Con La Loro Lana Il Loro Crine E Loro Pelo Fabricate Su Pellettili E Oggetti Di Qui Vi Servite Per Un Certo Tempo Con Quel Che Ha Creato Allà Vi Ha Dato Lombra E Ha Fatto Per Voi Rifugi Nelle Montagne Vi Ha Concesso Vesti Che Vi Proteggono Dal Calore E Altre Che Vi Proteggono Dalla Vostra Stessa Violenza Ha In Tal Modo Completato La Sua Benevolenza Su Di Voi Affinché Siate Sottomessi Se Poi Volteranno Le Spalle Sappi Che A Te Incombe Solo L'obbligo Della Comunicazione Esplicita Conoscono La Benevolenza Di Allà E Poi La Rinnegano La Maggior Parte Di Loro Sono Miscredenti Il Giorno In Cui Susciteremo Un Testimone Da Ogni Comunità Ai Miscredenti Non Sarà Data La Parola E Non Avranno Nessuna Scusa E Quando Gli Ingiusti Vedranno Il Castigo Esso Non Verrà In Nulla Alleviato E Non Avranno Dilazione Quando Coloro Che Erano Associatori Vedranno Quello Che Associavano Da Allà Diranno O Signor Nostro Ecco Le Divinità Che Invocavamo All'infuori Di Te E Questi Replicheranno In Verità Siete Bugiardi In Quel Giorno Offriranno Ad Allà La Loro Sottomissione E Le Loro Invenzioni Li Abbandoneranno Quanto I Miscredenti Che Distolgono Le Gentili Dal Sentiero Di Allà Aggiungeremo Loro Castigo Su Castigo Per La Corruzione Che Hanno Sparso E Ha proibito la dissolutezza, ciò che è riprovevole e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. Obedite al patto di Allah dopo che l'avete accettato e non mancate i giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi. In verità Allah conosce il vostro agire. Non fate come colei che disfaceva il suo filato dopo averlo torto a fatica, facendo dei vostri giuramenti in mezzi di reciproco inganno, a seconda della prevalenza di un gruppo o di un altro. Così Allah vi mette alla prova e nel giorno della Ressurrezione vi mostrerà ciò su cui eravate in polemica. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Invece Egli travia chi vuole e guida chi vuole. Certamente sarete interrogati sul vostro agire. Non fate dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno, che altrimenti scivolerebbero i vostri piedi dopo che erano stati saldi, e proverete la sventura per aver allontanato le genti dal sentiero di Allah. Subirete un castigo terribile. Non svendetevi il prezzo, il patto con Allah. Ciò che è presso Allah è meglio per voi, se lo sapeste. Quello che è presso di voi si esaurisce, mentre ciò che è presso Allah rimane. Compenseremo coloro che sono stati costanti, in ragione delle loro azioni migliori. Daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti, in ragione delle loro azioni migliori. Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah contro Satana il lapidato. Egli non ha alcun potere su quelli che credono e confidano nel loro Signore, ma ha potere solo su chi lo prende per patrono, su quelli che per causa sua diventano associatori. Quando sostituiamo un versetto con un altro, e Allah ben conosce quello che fa scendere, dicono, non sei un impostore. La maggior parte di loro nulla conosce. D. Lo ha fatto scendere con lo spirito puro, con la verità inviata dal tuo Signore per rafforzare coloro che credono, come guida e buona novella per i musulmani. Sappiamo bene che essi dicono, c'è un qualche uomo che lo istruisce, ma colui a cui pensano parla una lingua straniera, mentre questa è lingua araba pura. In verità, Allah non guida coloro che non credono ai Suoi segni. Avranno doloroso castigo. I soli a inventare menzogne sono quelli che non credono ai segni di Allah. Essi sono i bugiardi. Quanto a chi rinnega Allah dopo aver creduto, eccetto colui che ne sia costretto, mantenendo serenamente la fede in cuore, e a chi si lascia entrare in petto la miscredenza, su di loro è la collera di Allah e avranno un castigo terribile. Ciò perché preferirono questa vita all'altra. In verità, Allah non guida i miscredenti. Ecco coloro cui Allah ha sigillato i cuori, l'udito e la vista. Ecco gli incoscienti. Senza alcun dubbio, nell'altra vita saranno i perdenti. Ma in verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di coloro che sono emigrati dopo aver subito la persecuzione e quindi hanno lottato e hanno resistito per la sua causa. Il giorno in cui ogni anima verrà a difendere se stessa, in cui ogni anima sarà compensata per quello che avrà operato, nessuno subirà ingiustizia. Allah vi propone la metafora di una città. Viveva in pace e sicurezza. Da ogni parte le venivano approvvigionamenti. Poi rinnegò i favori di Allah e Allah le fece provare la fame e la paura, punizione per quello che avevano fatto. Giunse loro un messaggero della loro gente, ma lo trattarono da bugiardo. Li colse dunque il castigo, poiché erano ingiusti. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso e rendetegli grazie della sua benevolenza, se è lui che adorate. Allah vi ha proibito la carogna, il sangue e la carne di maiale e l'animale sul quale sia stato invocato altro nome che quello di Allah. Quanto a colui che vi sia costretto senza essere né ribelle né trasgressore, in verità Allah è perdonatore misericordioso. Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo questo è lecito, questo è illecito e mentendo contro Allah. Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo. Avranno godimento effimero, e poi un castigo doloroso. Proibimmo a quelli che seguirono il giudaismo ciò di cui già ti dicemmo. Non siamo stati noi ad essere ingiusti verso di loro e si stessi lo furono. In verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di quelli che commisero il male per ignoranza e poi si pentirono e si corressero. In verità Abramo fu un modello obbediente ad Allah e sincero. Egli non era affatto un politeista. Era riconoscente ad Allah per i suoi favori. Allah lo scelse, lo guidò sulla retta via. Gli abbiamo dato il bene in questa vita e nell'altra sarà certamente tra i giusti. Quindi ti rivelammo? Segui con sincerità la religione di Abramo. Egli non era affatto un associatore. In verità il sabato fu istituito solo per coloro che divergevano in proposito. Nel giorno della resurrezione il tuo Signore giudicherà tra di loro in merito alle loro divergenze. Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo Signore conosce meglio di ogni altro chi si allontana dal suo sentiero e conosce meglio di ogni altro coloro che sono ben guidati. Se punite fatelo nella misura del torto subito. Se sopporterete con pazienza ciò sarà ancora meglio per coloro che sono stati pazienti. Sì paziente la tua pazienza non viene da altri se non da Allah. Non ti affliggere per loro e non farti angosciare dalle loro trame. In verità Allah è con coloro che lo temono e con coloro che fanno il bene.